Il forum era la piazza centrale delle antiche città romane. Il foro romano era situato nella valle tra il Palatino e il Campidoglio. In origine fu una necropoli, un grande cimitero dei villaggi che sorgevano sui colli. Subito dopo la fondazione di Roma si racconta fu teatro di una storica battaglia tra romani e sabini in cui le donne sabine erano dilaniate tra i padri sabini e i mariti romani che le avevano rapite in precedenza. Per questo si fecero mediatrici di una pace tra i due popoli che unificò i due regni e che portò a Roma il potere decisionale. Il foro romano ebbe in principio funzione di mercato, centro commerciale, poi sempre di più fu importante centro di riunioni politiche. Nell'insieme fu il centro politico, religioso e commerciale della città di Roma. Il termine forum dall'epoca romana alla nascita di internet non è scomparso, è stato utilizzato per indicare incontri reali, fisici, tra accademici, politici, studenti e giornalisti. In internet il termine forum indica i luoghi di discussione a tema. I siti di informazione, i siti universitari, politici o medico-sanitari più influenti associano delle pagine di forum ai vari argomenti. Con il crollo dell'impero il foro romano subì un lento e progressivo abbandono e deterioramento. I resti, in marmo e in pietra, furono riciclati. In rete i social network stanno lentamente svuotando i forum. È infatti lì, nei social network, che gli inforg, gli abitanti dell'infosfera, si incontrano per discutere. I termini inglesi hub e social network stanno lentamente sostituendo il termine latino forum.